I fondi immobiliari aperti sembrano essere una nuova occasione per gli investitori in Italia. Con i tavoli di Remain de Governo, lei collaborerà e supporterà questi tavoli? Sicuramente i fondi immobiliari aperti possono essere un'occasione interessante di investimento, sono già presenti in alcuni paesi, da noi meriterebbero di essere attentamente disciplinati perché il fondo immobiliare aperto per sua natura, proprio perché è aperto, deve caratterizzarsi da alcuni elementi tipologici particolari, ma credo che possa essere sicuramente un interessante strumento, occorrerà ben disciplinarlo, ma credo che in un momento anche delicato possano, se ben disciplinati, come penso che si possa sicuramente fare, essere un'occasione importante per aprire il nostro territorio a investitori esteri che magari preferiscono forme di investimento a più facile uscita sostanzialmente rispetto a un fondo immobiliare chiuso. Io sono favorevole nei limiti di quello che mi è possibile e mi pare che possa essere una proposta da supportare. Perfetto, allora ne faccio subito un'altra. In passato alcuni fondi hanno beneficiato di un periodo ulteriore, oltre i tre anni previsti dalla normativa, rispetto alla scadenza naturale del fondo. Lei come la valuta questa cosa? Pensa che sia una buona cosa da portare nei tavoli del governo normativi per i lavori normativi? Guardi, sicuramente questa fattispecie riguarda quelle SGR che hanno fondi istituiti molto tempo prima, evidentemente, che quindi sono già arrivati a loro scadenza e possono incontrare delle difficoltà nella liquidazione del fondo, perché i fondi immobiliari per loro definizione non sono liquidi e quindi la collocazione sul mercato dei vari immobili può incontrare delle difficoltà. Questo è un momento sicuramente delicato in cui avremo sicuramente delle ricadute sui valori immobiliari e quindi accelerare le dismissioni per rispettare un termine sicuramente rischia di portare magari delle perdite ulteriori agli investitori. Quindi penso che a determinate condizioni possa anche ipotizzarsi un termine maggiore, un termine maggiore che deve essere evidentemente sfruttato nel migliore dei modi non per ritardare la restituzione dei loro investimenti a chi ha messo del denaro, ma proprio per consentire una valorizzazione migliore degli immobili in una svendita dovuta ad un termine che incombe. Quindi credo che in una situazione sicuramente eccezionale come questa un intervento in questa direzione potrebbe sicuramente aiutare a non perdere valori, questo sicuramente.